Mentre il settimanale di Alfonso Signorini ricostruisce la crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio svelando che la cantante di Sora al momento vive in un appartamento col figlio e la madre ma che tuttavia la situazione appare del tutto recuperabile, su Instagram la protagonista di uno dei gossip più succosi dell'estate sembra non voler perdere tempo e accorciare le distanze con Cristian Vieri. Tanto è rumor apparsi su chi si tratterebbe solo di una pausa di riflessione voluta dalla musicista ma a marcarla stretta. Ci avrebbe pensato Bobbo che tra una partita a foot volley e un cocktail sulla spiaggia avrebbe, e il condizionale e d'obbligo, trovato il tempo di far sentire la sua presenza attraverso like e cuoricini lasciati qua e là nella galleria della Tatangelo. Si vocifera in effetti che l'ex attaccante abbia apprezzato in particolare gli scatti in cui la cantante appariva da sola o in bikini e non ci sembra in ogni caso di aver visto alcun commento azzardato da parte del 44enne eppure il gossip sul nuovo flirting pazza. Bobbo Vieri ha la fama da sciupa femmine e non disdegna di mostrarsi sui social in compagnia di belle ragazze, vedasi per esempio l'ex velina Costanza Caracciolo, tornata single dopo la storia con l'attore Primo Reggiani, ma potrebbe aver perso davvero la testa per la conturbante eleditata. Intanto Gigi D'Alessio ha fatto voto di silenzio ed è sparito dalla vita pubblica e sui social, segno che rafforza quanto comunicato da entrambi, ovvero che venga rispettata nel modo più assoluto la loro privacy.